qua introduciamo una novità ovvero primo appuntamento ho fatto il mio primo appuntamento di tutta quanta la mia vita dove sono letto anche al bacio, adesso ne parliamo e qua infatti ho scritto da oggi si inizia a tenere anche il diario degli appuntamenti quindi questo qua io lo chiamavo diario dei progressi e quindi adesso poi ho un altro foglio a parte un altro file su word dove da quel giorno lì l'ho chiamato diario degli appuntamenti quindi apriamo il diario degli appuntamenti che mi sono preparato già qui che è anche questo un po' lunghino perché io poi andrò avanti con il diario dei progressi e poi quando incontriamo degli appuntamenti passo al diario degli appuntamenti quindi 2 gennaio 2016, primo appuntamento con questa ragazza che veniva da Brescia che era quella che avevo approcciato verso fine dicembre e quindi ci erano tenuti in contatto nei vari giorni, ci erano scritti e avevo organizzato l'appuntamento per appunto subito appena fosse iniziato l'anno ottima connessione e feeling già nell'approccio al vivo e poi anche via messaggio si offre lei di venire fino a Milano e questa è una cosa molto positiva io in realtà mi ricordo che avevo anche probabilmente proposto di vederci a metà strada però poi alla fine lei ha detto comunque in realtà è stato meglio perché poi a metà strada c'è che cazzo, c'è cosa ci vediamo in autostrada a metà strada, non lo so dove ci saremmo visti quindi in realtà è stato meglio così e comunque c'è stata la proposta a lei alla fine di venire fino a Milano e quindi io arrivo un po' prima perché volevo lavorare un pochino prima sul mio umore ma alla fine non ho fatto nessun approccio quindi volevo appunto fare qualche approccio quindi volevo fare qualche approccio prima di andare all'appuntamento con questa ragazza però ero così in ansia che non ho soggetto a fare nessun approccio per riscaldarmi quindi a un certo punto lei mi chiama al telefono e mi dice che è arrivata ci troviamo al stato del cavallo che c'è in piazza Duomo ci salutiamo con un bacio sulla guancia e si inizia subito a parlare però la invito a iniziare a spostarci si continua a parlare quindi qua giusto una piccola parentesi io qua ho detto si inizia subito a parlare ok consiglio prima iniziare a spostarsi verso la location della puntento di stare almeno un minuto magari anche due minuti lì fermi a parlare un attimo e non iniziare a camminare subito questo è semplicemente per andare a ricostruire un minimo la trazione quindi che delle volte c'è già dall'interazione al vivo ma la maggior parte di volte no ok quindi tu non dare per scontato il fatto che la troverai nello stesso umore presa bene come quando l'hai lasciata ok la volta precedente quando hai preso il numero di telefono quindi il fatto di stare un attimo fermi parlare guardarsi negli occhi mentre parlate è una cosa che aiuta nel ricreare un minimo di attrazione prima di iniziare a spostarsi quindi giusto piccolo accorgimento quindi invito a iniziare a spostarci si continua a parlare seguendo il flusso degli argomenti non mi sono mai trovato senza sapere cosa dire e questo anche grazie alla connessione che avevo con lei che questa è la bellezza degli approcci di giorno che quando arrivi appuntento trovi praticamente quasi nel 100% dei casi ragazze che sono estremamente compatibili con te non è magia è semplicemente il fatto che le ragazze ti rispondono bene negli approcci di giorno ti rispondono bene anche perché sono simili compatibili con te in termini di mentalità ok infatti se io ad oggi riapprociassi questa ragazza sicuramente ci sarebbe un rifiuto mi rifiuterebbe se non ci fossimo mai conosciuti e l'approcciassi adesso così in una situazione di approccio di giorno per strada probabilmente adesso non so che fine ha fatto c'è da qualche volta guardo la sua foto su whatsapp ed è ancora insieme e c'è quindi la foto insieme a un ragazzo che è lo stesso ragazzo che ha conosciuto qualche mese dopo che con me era finita quindi non è stata una fidanzata questa qui quindi però statistamente le persone non si migliorano rimangono fra la stessa vita che continuano a fare e quindi molto probabilmente cioè io sono sono una persona che è 500 milioni di volte diversa rispetto a quel giorno lì ok quindi sicuramente in termini di mentalità non ci troveremmo più quindi se le approcciassi ad oggi probabilmente verrei rifiutato come anche ai tempi approcciavo ragazze che in termini di mentalità magari erano più interessanti più avanti di me se le approcciassi ad oggi ci sarebbe compatibilità quindi la cosa bellissima degli approcci di giorno è che più ti migliori più la qualità delle ragazze cresce quindi camminando visto che c'era parecchia folla ogni tanto ci sfioravamo ma niente di che arrivo qua giusto c'è una piccola prevenza da fare io non sapevo niente degli appuntamenti proprio nulla l'unica cosa che sapevo è che bisognava fare contatto fisico con gli appuntamenti ma poi il come non lo sapevo e quello parlato in un posto che si chiama Caffè Pascucci che ad oggi non esiste più non è sopravvissuto al coronavirus e avevo chiesto sul suggerimento a Davide sul 2 portare le ragazze per gli appuntamenti perché avevo zero esperienza quindi qua ero andato in questo posto qua sul suggerimento di Davide le dico che non ci sono mai stato quindi prima facciamo un giro di ispezione dentro per vedere com'è scherzo dicendole di guidare lei quindi qua stavamo salendo delle scale le ha detto dai fai strada tu quindi chiedendo te sei tu uomo fare la leader e guidare la situazione lei non ci pensa proprio a fare il primo passo quindi faccio strada io ovviamente come giusto che sia ma io comunque li scherzavo vediamo un po' come è il posto ed è ok quindi non che io pensi requisiti di una location ai tempi quindi il come ho valutato che fosse ok non lo so quindi torniamo giù e ordiniamo da bere pago io ma subito dopo mi rimborsa con i soldi che avrebbe dovuto pagare lei accetto senza fare troppi complimenti e mi dice che si fa offrire soltanto quando ha un fidanzato ora per la questione del pagare non pagare eccetera offri sempre ad un appuntamento e io faccio così quindi di base offro io se lei vuole fare a metà le dico no le dico al massimo tranquilla tanto non andrò in bancarotta per un drink o per un caffè o quello che è e se proprio insiste appunto le dico al prossimo giro fai te sempre rimarcando la cosa del fatto e non andrò in bancarotta per un drink o per un caffè quindi questo è il modo se vuole pagare totalmente lei capita lì in quel caso io lascio fare non stare a fare le scenate lì dove no ma dai ma faccio io e lei dice no dai ma faccio io no ma dai ma faccio io no ma dai ma faccio io e poi sta roba qua delle scene tipiche non so mi viene in mente tipo la gente del sud ho tutti quanti parenti del sud quindi non parlo per razzismo però mi vengono in mente le scene di no dai ma faccio io no ma non lo so roba di questo tipo che sono imbarazzanti anche cioè spezzano l'attrazione spezzano l'atmosfera quindi se lei vuole freddo totalmente lei io lo lascio fare senza problemi e quindi soprattutto non chiedere mai tu la parte di lei durante un appuntento quindi io ti dico quello che funziona meglio poi vuoi fare il coglione perché di fatto è questo io ho avuto anche studenti durante il corso degli ultimi anni fin dal 2018 che diceva no ma io sono quadrato di testa io sono fatto così no deve fare anche lei la sua parte e va bene rovianti e puntenti ma con una ragazza italiana ci potrebbe anche stare delle volte ma comunque no non farlo sull'utente tu prova prova a fare questa cosa con una ragazza russa vedi cosa succede quindi non te lo spoiler neanche io non l'ho mai fatto ma lo so di studenti che hanno provato a fare a metà con ragazze russe in un appuntento provaci e poi lo scopri cosa succede quindi non si fa anche tu addirittura tu puoi aver fatto tutto quanto appuntento giusto potresti anche essere arrivato al bacio con una ragazza ti ha già detto di sì e state andando a casa per far sesso c'è una atmosfera palese finirete a far sesso chiedere i soldi per fare a metà e rovini tutto quanto garantito 100% delle volte così ok non si fa come cosa quindi esci dalla mentalità da perdente ha de fare lei la sua parte e di sì farle la sua parte su altre cose ok non sulla cosa del fatto di offrire ok poi se ci entri in una relazione e per te è importante che anche lei delle volte offra ok quello là lecito ci può stare se parliamo di in una relazione lei sei tu che l'abitui dipende poi anche da con che ragazza sei io con la mia ragazza boh il 20% delle volte offre lei l'80% delle volte offro io ma a me non me ne frega niente io potrei anche offrire io il 100% delle volte non è una cosa che mi interessa però comunque quando vuole offrire lei quando vuole fare lei un po' la sua parte comunque non le lascia fare senza problemi ok quindi per la relazione quando sei in una situazione di appuntamento non rompere i coglioni perché ti rovini la situazione a meno che appunto lei non voleva fare a metà puoi dire poi il prossimo giro fai te se magari vi state spostando di location ok ma se sei poi per esempio in un secondo appuntamento con la ragazza al primo appuntamento hai pagato te al secondo appuntamento tu ti ricordi che lei voleva offrire le hai detto prossima volta fai te e magari lei non si ricorda non so se hai sentito il rutto stavo cercando di non ruttare comunque bisogna tenersi idratati mentre si filma quindi da volte mi viene da ruttare comunque non è questo il discorso quindi se poi durante il secondo appuntamento lei non si ricorda che ti aveva detto che voleva offrire non ricordarglielo te ok se si ricorda e offre ok va bene e consigli anche dei generali non ti consiglio di portarti le monetine eccetera ma anche per comunità in generale sono anni che pago con la carta ok immagini poi magari sei anche lì con una strafiga tutta quanta in tiro siete in una serata magari anche un po' elegante siete in un lounge bar un po' figo che non si significa che devi portare le ragazze in posti fighi per impressionarla dei posti da essere funzionali non belli poi ovviamente non portarla da McDonald's comunque non è questo il discorso c'è che poi sia di contare le monetine a contare c'è una carta via farsi fine quindi io ti dico quello che faccio io ma è proprio più comodo con la carta quindi mi dice tornando appunto al discorso ci andiamo a sedere entrambi dalla parte dei divanetti qua non so se l'ho fatto intenzionalmente o se sapevo già che era importante come cosa non lo so però io sapevo soltanto che devo fare contatto fisico si inizia a parlare a ruota libera all'infinito non ho proprio idea di come scalare fisicamente quindi inizio con un contatto fisico piuttosto leggero e magari ogni tanto cerco di avvicinarmi un po' di più con il contatto fisico leggero intendo che probabilmente magari non so delle volte magari la sfioravo con il metà gesticolavo o robe così o magari quando scherzavo magari non so ma sto scherzando e toccavo un attimo in braccio con robe di questo tipo poi ricordo chi ha già dall'approccio alla crema ho detto c'è tutta quanta l'hai rispiegata la parte di contatto fisico quindi prendi spunto vedi quello che facevo però c'è già la soluzione in dall'approccio alla camera del letto quindi la svolta sul contatto fisico c'è quando le prendo le mani perché le mie erano ancora un po' fredde anche se eravamo al chiuso e voglio sentire se le sue erano calde quindi ottimo sempre introdurre con una scusa in questi casi poi quando ci si avvia per le fasi finali del contatto fisico lì non ti serve una scusa quindi ok poi altra svolta sul contatto fisico è stata è quando distendo le gambe fino ad appoggiarle sulla sedia di fronte cosa che la divertiva perché comunque non è una cosa che si fa non è bello farsi vedere così da chi lavora in quel posto mi diceva per scherzo io non ti conosco perché praticamente c'era il divano c'era il tavolo e dall'altra parte del tavolo c'erano delle sedie io mi ero sdraiato e appoggiavo i piedi sulla sedia che c'era di fronte che non è appunto non è bello farsi vedere così da chi lavora in quel posto però però appunto lei diceva io non ti conosco che praticamente ridendo scherzando e poi dopo però quando lo rifaccio perché poi avevo tolto le gambe da lì poi dopo un po' l'ho rifatto e quando lo rifaccio anche lei distende le sue gambe appoggiandole sulle mie ottimo questa qua palesemente voleva scopare ho rovinato tutto quanto per il secondo appuntamento ma ci arriveremo quindi quando lo rifaccio distende le gambe sulle mie dopo la tocco anche sui polpacci perché si parlava di quello quindi non so probabilmente mai si parlava magari di muscoli eccetera quindi per quello forse l'ho toccata sui polpacci e di solito non è un buon contatto fisico da fare però io mi stavo rappicando sugli specchi una loro minima idea di quello che che bisognava fare quindi mi spiega anche qualcosa del come ci si trucca mi fa provare uno dei trucchi per gli occhi che me lo fa però sulla mano perché lei appunto essendo una ragazza c'era tutti quanti trucchi dietro non so perché siamo venuti a parlare di quello però bene parlare comunque di cose diciamo che interessano a lei di quello che è relazionabile con il mondo femminile quindi tipo mi inizia a pitturare la mano lì forse con un rossetto non lo so e mi spiega trucchi che poi quando ho provato a cancellarlo è venuto fuori un casino chiaramente in senso positivo spesso la imitavo quando gesticolava o nel linguaggio del corpo facendolo in maniera marcata in modo che lo notasse tutto ciò per andare un po' a prendere in giro per tutto l'appuntamento è sempre stata molto molto diciamo compliant stava gli scherzi stava al gioco eccetera e soprattutto dopo che siamo usciti dal bar spesso mi diceva che è scemo ok cioè quando una ragazza ti dice robe di questo tipo chi non te lo dice con tono sorridente in maniera divertita eccetera cioè sono segnali iper positivi e infatti ho detto detto in quel modo che fa intendere un segnale molto positivo a me almeno una volta mi ha tirato anche un colpetto sul braccio visto che col passare del tempo iniziavo a prendere in giro in maniera più spesso in maniera scherzosa e lei poi ha iniziato un po' a fare lo stesso e quando abbiamo parlato delle nostre date di nascita lei mi ha mi ha anche fatto gli auguri in ritardo visto che il mio compleanno era giusto qualche giorno prima una settimana prima qualche volta eravamo qualche volta eravamo seduti qualche volta quando eravamo seduti non mi andava più parlando più di parlare perché seguire appunto il flusso degli argomenti per una o due ore poi inizia a essere stancante qua ancora non l'avevo mai fatto la prima volta facevo una conversazione così lunga quindi è chiaro che ero molto stanco mentalmente e quindi poi inizia a essere stancante allora stavo un attimo in silenzio qualche volta quindi poi parlava lei oppure mi ricordo in un'occasione che mi sono aperto abbastanza e ho parlato della prima cosa che avevo visto che era proprio totalmente non censuarsi che è positivo quindi tanto positivo che quando io stavo zitto lei riprendeva la conversazione quindi appuntamento ci sta della volta magari sta anche in silenzio volutamente ripeto volutamente se sta in silenzio perché non sai cosa dire quella è una cosa iper negativa e quindi a un certo punto lì sempre il discorso di non censurarsi non sapevo cosa dire c'era una lavagna in questo posto qui e quindi ho detto alla ragazza oh guarda c'è una lavagna così totalmente a caso quindi però fa sempre parte del non censurarsi e il caso vuole che poi c'era anche scritto il suo nome su questa lavagna quindi mi è anche andata di culo quindi prende il share dal bar mi aiuta a mettere la sciarpa a modo suo ma poi me la rimetto a modo mio quindi però ottimo che non so se lo sono fatto apposta se me l'ha fatto lei di sua iniziativa però è un ottimo modo per stare vicini fisicamente mi ricordo un'altra l'ho fatto con una ragazza in un appuntamento nel 2018 dove lavoravo come agente immobiliare quindi poi dopo il lavoro avevo appuntamenti con le ragazze e quindi ci andavo delle volte volutamente con la cravatta del lavoro perché poi dopo mettevo la cravatta alla ragazza o di questo tipo e magari mi la slegava lei e quindi lei mi faceva contatto fisico e poi magari gliela mettevo io così per gioco e quindi facevo contatto fisico con lei e quindi usciamo e facciamo un giro un giro percorso Vittorio Emanuele entriamo nel negozio della Disney che adesso non credo che esista neanche più comunque qua è negativo in realtà non si fa le passeggiate a caso ok assolutamente sbagliato la passeggiata deve essere verso un'altra location o verso casa o in posti strategici se sai che non puoi far sesso con la ragazza in quel appuntamento che era questo il caso poi in realtà se avessi fatto se avessi saputo quello che era possibile e come si faceva probabilmente si poteva far sesso con questa ragazza anzi non probabilmente io direi in maniera praticamente certa al 99% si poteva già farci sesso in questo appuntamento chiarente non me lo immaginavo neanche ero andato lì che ho detto il mio primo appuntamento in vita mia già è tanto quello che avevo fatto c'è questa pioggia che si sente appena ma che dà fastidio allora apriamo il mio ombrello e iniziamo ad andare in giro a braccetto dai poi quanti segnati ti deve dare questa qui per baciarla Luca del passato dai ma porca è una troia quindi chissà se ci sarà chissà se esistono altre linee temporali dove in questo momento magari Luca del passato sta sentendo magari l'orecchio che gli fischia eccetera quindi potevo baciarla anche lì sotto l'ombrello cioè si poteva fare tranquillamente in queste atmosfere anche magari romantiche da film quindi arriviamo in stazione lei però vede che ha sbagliato orario del treno e quindi si affretta mi saluta velocemente con un bacio sulla guancia io capisco che siamo gli sgoccioli e qua adesso prima di arrivare a leggerti il resto io qua per tutto quanto il tempo io sapevo che dovevo fare il bacio lo vedevo che si poteva fare il bacio io avevo costantemente il dialogo interiore in testa diciamo cazzo 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 come la bacio cazzo 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 quindi ti sto descrivendo i fatti ma c'è tutto quanto il dialogo interiore dentro di me che andava avanti già da un bel po' quindi appunto lei si rende conto che il suo treno sta per partire quindi si affretta mi saluta velocemente con un bacio sulla guancia io però io capisco che siamo gli sgoccioli la fermo prendendola per mano e le dico che prima devo fare una cosa che se non faccio poi me ne pentirò quindi poi l'ho anche detto ti piacciono le decisioni mi prese sul momento devo dire che si è un po' un pochino spaventata però la prendo e la bacio ci baciamo per un buon 15 secondi in realtà me l'ho aspettato diverso il bacio se si capisce cosa mi aspettassi boh quindi ci baciamo per un buon 15 secondi me l'ho aspettato diverso il bacio non mi ha fatto troppo effetto sul momento però è stato bello comunque e anche qua mi dice che scemo che sei ci dirigiamo verso l'ingresso per i treni praticamente appiccicati in senso andavamo tipo magari con un bra stavo magari con un braccio intorno a lei e lei chiede per il suo treno ma a quanto pare era già partito da un bel po' quindi alla fine poi si è rimasti insieme per un'ora extra e però qua ci soffermiamo un attimo sul momento del bacio e poi è sempre bene farlo è sempre meglio farlo quando sei nella location poi capita le volte che magari lo si fa in camminata lo si fa fuori per strada in piedi è un po' più difficile si può fare lo stesso però meglio farlo nella location e qua io avevo questo non so me l'aveva passata Davide già come mentalità fortunatamente ovvero il fatto di pensare al non so dire al rimpianto nel non provarci ok poi qua effettivamente sono riuscito a fare il bacio e è andata bene per appunto ho usato questo tipo di mentalità non volevo poi avere il rimpianto di non averci provato e anche perché sarebbe andato male appuntento se non avessi fatto il bacio non mi avrebbe voluto rivedere perché quando ti perdi le occasioni la ragazza poi non ti vuole rivedere e nonostante ho fatto qua il bacio poi ci sono passati altri un bel po' di appuntenti prima di rifare un bacio con con qualche altra ragazza quindi niente quindi se era giusto un attimo il commento e poi utilizzalo anche te questa mentalità buttati e non arrivare poi con il rimpianto fino a appuntento ma se mi fossi buttato e avessi provato il bacio buttati perché poi ti senti una merda quando poi torni a casa e il sentirsi una merda daria dal fatto che sapevi che potevi fare di più ma non l'hai fatto infatti quando un appuntento era andato bene lo sentivo perché appunto sapevo che avevo dato il massimo e quando invece sapevo che mi ero cagato sotto nell'appuntento e non avevo dato il massimo guarda caso la ragazza poi non voleva rivedermi e tornavo sempre a casa con quella sensazione di frustrazione perché sapevo che potevo fare di più ma non l'ho fatto vorresti sapere come percorrere i miei stessi passi per sbloccarti istantaneamente con le donne avere vagonate di appuntamenti e momenti di intimità con le donne che desideri evitando tutti gli errori che ho fatto io in passato e recuperando tutto il tempo perso se si scopri come in 365 giorni rimorchiare clicca sul link in descrizione e ottieni l'accesso immediato al 40% in meno fino al 16 gennaio hai domande o dubbi? parla con il nostro consulente esperto su whatsapp anche qui trovi il link in descrizione in più per chi accede entro l'11 gennaio parteciperà all'estrazione dei premi che vedi qui a schermo